Dunque, ritorniamo sulla vicenda dell'abbandono dei rifiuti sul traslagonare. Se vi ricordate, ricorderete senz'altro, qualche settimana fa avevamo proprio denunciato, non solo con la pubblicazione dei video, ma anche con proprio una denuncia ai gnoti, il fatto che qualcuno aveva abbandonato una serie di sacchi contenenti immondizia indifferenziata e riconducibili senz'altro a un'attività di ristorazione. In seguito alla denuncia che abbiamo fatto, sono intervenuti i carabinieri, i carabinieri hanno fatto un'indagine e così siamo venuti a sapere che questa attività, di cui abbiamo promesso che avremmo dato il nome e lo diamo, è il ristorante Servì e Riverì di Montebelluna, o meglio, precisiamo, le immondizie lasciate sul traslagonare, provengono sicuramente da quel locale. Tanto è vero che all'interno di quei sacchi ci sono tutta una serie di elementi che portano alla identificazione sicura che arrivano da quel locale lì. Noi abbiamo chiamato il titolare, il quale devo dire che è stato estremamente cortese, si è comportato in maniera civilissima, dice che casca delle nuve, dice che vicino al suo locale ha il bidone delle immondizie e loro conferiscono le immondizie assolutamente nel bidone. Ci ha anche chiesto consigli, ma io ci ho spiegato che non era il nostro ruolo quello di dare consigli come eventualmente difendersi. Comunque, noi non è che diciamo che il titolare del locale non abbiamo questa prova che li ha portati lui a Chioggia, anzi lui ha detto che con Chioggia non ha nulla a che fare, che non è mai venuto a Chioggia, non ci viene, nessuno dei suoi dipendenti collaboratori passa per Chioggia, ha ipotizzato che gli abbiano fatto un brutto scherzo nel senso che qualcuno ha preso questi sacchi da vicino alla sua attività e li abbia portati a Chioggia, comunque sta di fatto che i sacchi provengono sicuramente da quel locale. C'è stata la denuncia, la denuncia è penale e avrà un seguito. Ecco, io spero che, non è che, io non ce l'ho con nessuno, ma il fatto che questi soggetti abbandonino le immondizie sul nostro territorio è anche in questo modo così cattivo, perché a Valli di Chioggia ci sono i bidoni dove non è che possono metterli nei bidoni di Valli di Chioggia, ci mancherebbe altro, anzi mi scuso con i residenti di Valli di Chioggia, però almeno sarebbero stati dentro i bidoni delle immondizie, magari il senacologiano lo stesso prendeva una sanzione, ma non sarebbe stato penale e non avrebbe sprecato tutta la laguna. Ecco, quindi avevamo promesso il nome di questo soggetto e come promessa, mazzonuta, l'abbiamo pubblicata. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito.